Una stella arriva a Firenze. Artista contemporaneo e residente fiorentino dal lungo tempo, Amedeo Lanci ha inaugurato una mostra delle sue opere del sentimentalismo, che l'autore stesso definisce una combinazione di colori ricchi e profondi con immagini che riflettono esperienze della vita reale e quello che lui considera il tumulto del sentimento umano nella vita moderna. Infatti Lanci è il fondatore dell'arte sentimentale che ha avuto inizio alla Biennale di Venezia nel 1999. Questa mostra, intitolata La Grande Stella, raccoglie oltre 80 opere degli ultimi 5 anni della carriera di Lanci. In mostra, immagini eteree di uomini, e donne circondate da montagne e scene sottomarine, ma ancora sangue e animali in penombra, appropriatamente allestite nell'antico sotterraneo del Museo Marini. Dal Museo Marino Marini, Danzins, C10. Ciao! Ciao! Bolla tendo ben! Grazie a tutti.